Un giovane stilista, come abbiamo avuto il piacere di ospitare ieri la sfilata di Mattia Di Gregorio, Manuel Iervese ci presenta questa sera le sue creazioni. Da sempre appassionato di arte e di moda in particolare, fin da giovanissima età, si laurea come prima laurea in lingue, mediazione linguistica e in particolare in lingue straniere per l'impresa. Successivamente si dedica, decide di dedicare la sua vita alla sua passione e prende una seconda diploma di laurea in creazione di moda all'Università Internazionale di Design di Pescara. E' anche abile nella pittura su stoffa e quindi crea anche delle t-shirt, delle borse con stoffe da lui dipinte per dare un tocco ulteriore di originalità e di unicità alle sue creazioni. La sua prima sfilata, la sua prima collezione risale al 2017-2018 e ciò che Manuel Iervese tiene ad esprimere è innanzitutto un'idea di eleganza, di raffinatezza che vada al di là dei cliché, del già visto, che possa esprimere appunto questi concetti in termini di originalità per la piena espressione della sua personalità artistica. Diamo il benvenuto a Manuel Iervese e alla sua collezione.